Oggi ragazzi, praticamente, devo andare all'opera con dei miei amici e prepariamoci insieme. Come potete vedere sono ancora in accappatoio ed è tardissimo, ho fatto tardi e adesso muoviamoci. Ragazzi, il tema è il colore nero, quindi bisogna scegliere un outfit nero e le due opzioni sono questo o questo. Vediamo allora questo, questo è il primo e questo è il secondo. Quale metterò? Non lo so. Ok ragazzi, ho messo questo outfit alla fine ha vinto il numero uno perché il secondo mi sembrava più da discoteca più che da opera. Quindi vi metto questo qua che sembra una signorina e adesso mettiamo gli orecchini sicuro perché questi qua non vediamo. La scelta degli orecchini è sempre molto difficile, allora vedete, qui abbiamo un sacco di orecchini colorati ma per l'opera no, quindi questi qua li scartiamo. Vediamo il prossimo cassetto, qui diciamo che sono troppo grandi e no 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 no.